Dal punto di vista Amaro va a tante persone, va a tutti quei presidenti che nella mia vita con cui ho lavorato, ognuno dei quali mi ha dato qualcosa, dal primo di Varese all'ultimo Stile Zagli. Quindi, voglio dire, i presidenti sono una categoria sicuramente spesso vituberata e contestata, ma in realtà sono personaggi che rappresentano poi spesso nel mondo dell'imprenditoria un punto di riferimento importante e quindi io devo fare riferimento a loro proprio per cogliere quegli aspetti manageriali che servono nella gestione di una società calcistica. Poi, ripeto, abbiamo alle spalle una proprietà molto forte, una proprietà che ci dà garanzia di continuità, ci dà garanzia di sostenibilità e quindi direi che sono molto contento. Non è, ci tengo a sottolinearlo, come nel mondo del sport, nel mondo del calcio, non è che chi più spende più vince. La vittoria lo si attiene soprattutto con una grande competenza e con una grande motivazione. Grazie a tutti.